Ci sono diverse tipologie di profumi in commercio, tra cui 1. Profumi fioriti. Sono basati su note floreali e si concentrano sulla fragranza di fiori come rosa, gelsomino e gardenia. 2. Profumi fruttati. Hanno note fruttate come mela, fragola e pesca e sono spesso utilizzati come profumi estivi freschi e rinfrescanti. 3. Profumi orientali. Sono composti da note speziate e legnose come cannella, vaniglia e sandalo e spesso hanno una fragranza intensa e seducente. 4. Profumi acquatici. Sono basati su note marine acquatiche e creano una sensazione fresca e pulita. 5. Profumi legnosi. Sono composti da note legnose come cetro, legno di sandalo e muschio e sono spesso utilizzati per una fragranza raffinata e maschile. 6. Profumi unisex. Sono profumi che possono essere utilizzati sia dagli uomini che dalle donne e hanno una fragranza versatile e adatta a entrambi i sessi. 7. Profumi orientali speziati. Sono una combinazione di note orientali e speziate e possono avere una fragranza intensa e avvolgente. 8. Profumi gourmande. Sono profumi dolci e deliziosi basati su note di cioccolato, vaniglia e caramelo. 9. Profumi freschi. Sono profumi leggeri e freschi basati su note verdi e acquatiche. 10. Profumi chitri. Sono profumi composti da note di muschio, ambra e agrumi e hanno una fragranza intensa e decisa. Queste sono alcune delle principali categorie di profumi che si possono trovare in commercio. Ogni profumo può avere note uniche e combinazioni diverse che lo rendono unico e distintivo. Ecco una lista di profumi famosi peroni typologia. 1. Profumi Fioriti, Chanel numero 5. 2. Profumi frutati, Marc Jacobs Desi. 3. Profumi orientali, Il Saint Laurent Occhio. 4. Profumi aquatici, Davidoff Coudoiter. 5. Profumi legnozi, Gucci Brom. 6. Profumi benisex, Calvin Klein, CK1. 7. Profumi orientali, Spesiati, Thierry Muglet Angèle. 8. Profumi gourmand, Thierry Muglet Alien. 9. Profumi fraichi, Issey Miliac L'Odyssa. 10. Profumi chitri, Guerre in Champs-Elysées. Queste sono solo alcuni des enti, profumi famosi appartenanti a catégorie E en 4. 9. Profumi, Spesiati, Chirry Muglet, I, B, 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 Grazie a tutti.